quindi da quanto è che non vedi i tuoi saranno più o meno quattro mesi come quattro mesi quattro mesi allora si saranno dimenticati di te magari mi chiamano quasi tutti i giorni sono figlio grazie spero siano commestibili sicuramente meglio della roba che mangio da quando sono qui sto comprando solo buste di insalata facciamo un brindisi alla nostra alla nostra prego grazie simpatiche le tue amiche grazie sono coinquiline tutte tue si marica e alessia che studiano loro la scienza della formazione colleghe si si è trovato bene molto comunque erano fantastiche le bruschette grazie vuoi aiutarmi a preparare il resto? volentieri bene comunque le mie amiche hanno detto che sei carino e se posso come mai le hai portate? ero nervosa visto che è la mia prima volta quindi è la prima volta che esci con qualcuno conosciuto online si bene speriamo che sia anche l'ultima questo dipende da te e come sta andando finora? bene non credi? poi si è superato anche il test delle amiche è un punto in più cazzo vabbè se vai in bagno forse riesci a smacchiarla qui continuo io ci pensi dove? si ok va bene grazie 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 ci sei? è pronto? ehm sto ancora combattendo con la macchia tu se vuoi intanto inizi a mangiare ecco ok ci sei così ecco ok ecco bene ecco Grazie a tutti Tutto ok? Sì, sì, sto... Arrivo, se mi dai cinque minuti arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oi, ci sei? Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto, polizia? Pronto? Sono a casa di un ragazzo Si è chiuso in bagno Non mi risponde, non so che fare Senti dei rumori? No, non sento niente, mi sto preoccupando Questo ragazzo le ha detto di qualche malessere o l'ha visto stare male? No, è andato in bagno per sbacchiarsi la camicia Attenda in linea Forse è lui Stia ferma, non si muova e non si avvicina alla porta I soccorsi stanno arrivando In che senso? Non ti preoccupi, stiamo arrivando Stiamo arrivando Alla man Unlessuga A proposita, non lo so that besides her Grazie. 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 Grazie.